Una delle novità introdotte in Illustrator CS6 è il nuovo motore di vettorializzazione delle immagini Bitmap. Era possibile convertire le immagini in vettori anche nella versione precedente. Questa opzione passava sotto il nome di ricalco dinamico. Oggi abbiamo a disposizione la nuova opzione ricalco immagini. Come potete immaginare non si tratta semplicemente di un cambio di nome della stessa funzione, ma piuttosto di un modo nuovo di interpretare le immagini e un conseguente miglioramento nei risultati. Come vedete abbiamo rappresentato una serie di immagini che mi serviranno per mostrarvi tutte le opzioni del nuovo strumento. Iniziamo visualizzando nella dimensione visibile la prima immagine. Selezioniamola e, come per le precedenti versioni, possiamo scegliere dal pannello di controllo un predefinito di conversione. O ancora, cambiare la modalità di visualizzazione del ricalco o accedere alle opzioni. In questo caso però, cliccando su questo pulsante, apriamo il nuovo pannello ricalco immagini. Lo possiamo fare da qui, dal pannello di controllo o dal menu finestra, ricalco immagini. Qui abbiamo una prima serie di opzioni rappresentate da queste icone. La prima, colore automatico, colore elevato, colore basso, scala di grigio, bianco e nero e contorno. Questi devono essere intesi come dei punti di partenza, sui quali potremo andare ad applicare ulteriori modifiche attraverso l'uso di predefiniti, così come nelle precedenti versioni, o modificando i parametri preimpostati e le opzioni avanzate. Nella parte bassa del pannello vediamo il risultato del ricalco espresso attraverso il numero di tracciati, il numero di punti di ancoraggio e i colori. E' inoltre possibile attivare l'anteprima così da vedere in tempo reale le modifiche apportate all'immagine. Partiamo quindi con uno dei predefiniti, ad esempio bianco e nero. Come vedete abbiamo una miglior definizione dei contorni e un numero ridotto di colori, tracciati e punti di ancoraggio. In generale il risultato risulta essere molto più coerente rispetto alle versioni precedenti. Possiamo cambiare la visualizzazione del risultato, ad esempio visualizzando i contorni oltre al ricalco. Questa funzione verrà meglio apprezzata quando andremo a vettorializzare un'immagine a colori. O ancora cliccare temporaneamente sull'icona dell'occhio per tornare all'immagine originale o rilasciare per vedere il risultato del ricalco. In questo modo è possibile velocemente comprendere come il ricalco ha modificato l'immagine. Come vedete possiamo ancora cambiare i predefiniti, scegliendone ad esempio schizzo o silhouette. o ancora grafica al tratto. Torniamo su silhouette. Possiamo cambiare la modalità passando quindi da bianco e nero a scala di grigi o colore. Premiamo la combinazione di tasti CTRL 1 su Windows, COMMAND 1 su Macintosh per visualizzare il documento in dimensione reale. Per passare rapidamente allo strumento selezione digitiamo sulla tastiera la lettera V, ma andiamo avanti e vediamo altre immagini, come ad esempio l'immagine di questo fiore. Adattiamo la tavola del disegno alla pagina. Ancora una volta selezioniamo l'immagine e dal pannello ricalco immagine scegliamo colore automatico. Questa opzione va a identificare in maniera automatica il numero di colori sufficienti per mantenere diciamo l'idea dell'immagine originale. Quello che è molto interessante è che rispetto alla precedente versione l'interpretazione dell'immagine è molto più coerente anche a fronte di un numero ridotto di colori. Proseguendo possiamo scegliere colore elevato, come vedete i tempi di elaborazione aumentano, così come il numero di colori, il numero di tracciati e il numero di punti di ancoraggio. Il risultato però risulta essere estremamente fedele all'originale, tant'è che per ingrandimenti si può anche ipotizzare l'utilizzo di un'immagine così trattata per risolvere il problema relativo alla risoluzione in output. Come già anticipato è possibile comunque modificare questi parametri ad esempio aumentando il numero di colori. Ecco che ancora una volta il risultato risulta essere pressoché perfetto. Infine, sempre per la parte relativa ai colori, possiamo scegliere un altro predefinito, ovvero colore basso. Anche in questo caso abbiamo una riduzione dei colori che trasformano l'immagine in un'immagine e in un'illustrazione. Vi ricordo che è possibile scegliere una palette di colori per limitare i colori del ricalco rispetto a questa palette. Facciamo un esempio. Posso andare a caricare una libreria di colori Pantone Plus, ad esempio i Pantone Quadricromia Coated. Ecco che il ricalco viene riapplicato, quindi ricalcolato. Questa volta però avrò applicato i colori Pantone agli oggetti che poi andranno espansi. Come vedete in questo caso verranno applicati tutti i colori presenti nella palette, ovvero nella biblioteca di campioni caricata. Ovviamente questi colori sono relativi all'immagine, cioè il illustrator cercherà di trovare una corrispondenza tra i colori presenti nell'immagine e i colori presenti nella biblioteca di campioni. Una volta ottenuto il risultato desiderato, possiamo andare sul pannello di controllo e cliccare sul pulsante Espandi o ancora sul menu Oggetto, Ricalco Immagine, Espandi. Ecco che così sarà possibile vedere e modificare tutti i tracciati che comporranno l'immagine. Nella lezione successiva vedremo come modificare le opzioni avanzate di ricalco immagine.